Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Mr. Giacobiano e su City Skyline Dunque, stavo guardando un attimo la situazione del traffico E siamo in una situazione abbastanza critica per quanto riguarda, come avevo detto anche nel precedente video L'entrata dell'autostrada All'entrata dell'autostrada c'è un po' di traffico Arrivano dai due lati, ovviamente E arrivati qui, la strada purtroppo non ha più, come dire, quello scorrimento che dovrebbe avere E quindi si provoca del traffico Che cosa fare? Io avevo pensato a mettere delle strade a scorrimento veloce su questo lato In questa direzione Per farle andare, dunque, senza farle passare dentro la città Così lateralmente farle passare di qua e andare nella zona industriale E eventualmente Oh, scusate, ho sbagliato, volevo girare in quell'altro verso Farle andare anche nella zona Industriale Agricola In modo che, appunto, come potete vedere qui c'è già un bel trattore nel mezzo Guardate quanti trattori che ci sono Uno, due, tre, quattro Cribbio Non è mica normale Cribbio E quindi Cercare di far evitare che mi attraversino il centro della città Ma questo vuol dire che cosa? Distruggere un sacco di case Penso che comunque È una cosa che dobbiamo fare Per seconda cosa Io volevo aumentare anche la capacità dell'educazione Perché in questo momento abbiamo il problema Che ci sono industrie specializzate E centri commerciali che hanno bisogno di persone più educate Educate nel senso Che hanno una cultura maggiore Uno studio Hanno più anni di studi E questo serve per far crescere tantissimo la popolazione Allora E tutte le strutture Allora Attualmente Se potete vedere Attenzione Mi fa una vocina un po' Attualmente così Se potete vedere un attimo qui Dov'è l'educazione Ah ci sono già Perfetto Dunque La capacità delle scuole alimentari vanno benissimo Oddio Potremmo farne ancora una Ma insomma Allora Le scuole superiori invece Purtroppo abbiamo una mancanza E ancora di più Nell'università Come potete vedere Abbiamo bisogno di università Ma questo non è possibile farlo A quanto pare Prima di aver raggiunto i 7500 abitanti Che credo che riusciremo a farlo In questo video Spero almeno Per fare un'altra high school Una scuola superiore Diciamo così Ho bisogno di 24.000 soldi Tra una settimanella ce l'avremo Quindi procederemo con Una scuola magari in questa zona In questa zona Distruggendo qualche abitazione Non so Magari ci arriveremo Presumo di sì Comunque E poi dobbiamo creare questa struttura nuova di strada Allora Per fare questo dovrò mettere in pausa Perché non vorrei che poi dopo qualche abitante Poverino Morisse così E sacrificarlo in questo modo Intanto abbiamo Sbloccato un achievement Rolling into Vabbè poi Non si sa Ho dovuto aprire La scheda di YouTube Sì scusatemi Di Steam Va bene Allora Adesso abbiamo i soldi necessari E come potete vedere Mettendo una scuola superiore qua Che ce n'è già una qui Tanto Potrei metterla anche qua No 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 In questo modo possiamo agire Oh Molto bene Andiamo in questa zona Così Oh Adesso che cosa ci serve Ci serve anche Una Ancora Ci serve Attenzione Che cosa dice Sì Lo sappiamo Che il cimitero Ha una capacità limitata Ma non credo Che abbiamo problemi Con il cimitero Ah ma era la landfill Cioè questa Questa Ok E per questo Abbiamo bisogno Di una Come si chiama Di un Inceneritore Purtroppo Non abbiamo i soldi Per l'inceneritore Vediamo un po' Dove è il garbage Qui Anzi Niente Niente Neanche Abbiamo bisogno Di 7500 abitanti Quindi andremo a mettere Una nuova struttura Una nuova discarica Volevo metterla qui vicino Che peccato Che peccato peccatone E la mettiamo qui Ok Così I camion partiranno Per pulire questo Perché sennò Qui Incomincia a esserci Un po' Di casino Volevo proseguire Come avete visto Nel video precedente Abbiamo creato Una linea Molto strana Tra l'altro Di autobus Questa è una linea sola Non lo so Ci metteranno 82 ore Per arrivare E fare tutto questo giro Adesso creiamo Una linea Che dalla La zona nord Percorrerà Tutta la La zona sud O meglio Farà Strawberry square E park square Collegherà Queste due cose Andiamo un po' Allora Abbiamo bisogno Di questo E quindi Di nuovo Facciamo partire Qui Che mi va qui Che mi va qua su Facendo quel giro strano E che mi torna qui Fino qua su in cima Vorrei andare Sì Sto creando degli stop Veramente In maniera Assurda Così Poi torniamo giù Fino qua giù Mettiamo un bus stop Qui E poi E poi Aspetta Che prosegue Così Poi noi dobbiamo Tornare qui Per fare il giro E lo mettiamo Che Dove eravamo rimasti Qui Sì Perfetto Dovrebbe fare Ancora Questo giro Così Sulla destra E poi Raggiungere Questo Non so Che senso abbia Comunque Un senso L'avrà Ok Colleghiamo quindi Per andare a scuola Insomma Cose di questo tipo Vedremo Se avrà un senso Per il momento Abbiamo 84 Cittadini A settimana Non tantissimo E un turista Ok Va bene Quindi l'attività C'è Dunque L'educazione L'abbiamo fatta Dovremmo essere Tranquilli Sì Abbastanza Insomma Pochino E' sempre Pochino rosso Vediamo un po' Com'è la situazione Visto Da questo pannello Scuole elementari Scuole superiori Perfetto Potrei mettere ancora Una scuola Elementare Quanto mi costa 10.000 No 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 Adesso Adesso è un po' troppo Perché noi dobbiamo lavorare Che sta succedendo qui? Che cos'è questa cosa? E' molto forte Non c'è acqua Abbiamo già finito l'acqua Non ci posso credere No è che semplicemente Io faccio le tubature Sempre Un po' Come dire Positive Nel senso Nel senso che Io penso che Siano sufficienti E invece No Bene Ok Allora Adesso dobbiamo pianificare Questa cosa qui Non è facile Dovrò mettere Cercherò di mettere Un attimo in pausa Non so se avrà un senso Questa cosa Ci provo E voglio vedere Se riesco a A fare un upgrade Vediamo Medium road Large road Vediamo un po' Che cosa c'è qui Tra l'altro Potrei metterle anche Con Con le Con gli alberelli Per levare Il rumore Perché abbassa Appunto Dice Il rumore Del traffico E questo Non è Non è cosa Da poco E questa È una Quattro linee Scusate È una Quattro Quattro corsie Mentre questa È una Sei corsie E io dovrei vedere E io dovrei vedere La cosa Come dire Per il futuro Come potete vedere Una sei corsie Mi distruggerebbe Tutto Allora One way road Traffic Take you remove In direction You draw the road Sì In realtà Non me lo fa Ovviamente Mi dice che Lo spazio è occupato Vediamo se Me lo fa fare Al contrario Invece No Niente affatto Quindi Io dovrò Distruggere Questa cosa qui E poi Aspettate Volevo vedere Un attimo Anche Contra la spesa Costo Cento Per cella E va bene E mi costa 1.28 Speed 60 Altrimenti Che cosa c'è Vabbè Queste sono Le autostrade E quindi Niente Non credo Che ce ne sia bisogno Questa è una Medium road Sempre Sempre No no Ma io voglio andare Proprio su quelle Veloci Più che altro Larghe Queste me ne da Sei corsie E queste mi da Ugale Sei corsie Ah ma Questa ha senso unico Cavolo No 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 La facciamo Così Ok Dobbiamo distruggere Delle cose Scusate In realtà Non sono per niente Dispiasciuto Vediamo se basta Solo distruggere Le abitazioni Che cos'è Che struttura Sto per demolire Scusate Devo vedere Che struttura è Ah Una scuola elementare Cacchio Proprio la scuola elementare Che Di cui ho bisogno Però Sì Ora Aspettate un attimo Non vi incavolate Sposteremo tutte le scuole Le inventari E Vediamo un po' Ritorniamo sul Strutturare questa cosa Vediamo un po' Se mi da la possibilità Ancora no Allora Io Devo fare Così Distruggere proprio Completamente Le strade Ok Vediamo adesso Yes 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 Certo che Costa Una tonnellata Mi costa Veramente Una tonnellata Oltre al fatto Di essere molto Care queste Queste Strade Mamma mia Mamma mia Quanto costa Una cosa esagerata Adesso io vi voglio Mettere La scuola elementare Porca miseria Ho bisogno di 10.000 Andiamo a chiedere Subito Un bel Prestito Di 60 60.000 Quell'altro L'abbiamo L'abbiamo pagato In 60.000 Ok Preso Così Cerchiamo di finire Subito Questa storia Almeno Almeno Vediamo un po' Se abbiamo Possibilità Per mettere Sempre la scuola elementare La scuola elementare Non vorrei Metterla su Mi toccherà Cambiare posizione Della scuola elementare Qui potrebbe essere Buono Sì 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 Espande molto meglio Perfetto Allora La strada Allora Per ora utilizzo Questa strada qui Con Con gli alberelli Dopodiché Da un certo punto Un po' Passerò a Questa Che mi dovrebbe costare Leggermente meno Non 80 A cella E poi costa meno La manutenzione Da restare la solita E così via Quindi Adesso Distruggiamo Anche Questa zona E A quanto pare La gente è molto contenta Ma non sa Che Stiamo Per Distruggere Tutta La loro Contentezza Ok Voglio passare Fino a qui Diciamo Fino a qua giù Con la strada Veloce Ok Ah ok Bastava che Io tenessi premuto E distrugge Con molta Felicità Una strada Così Per niente Allora Innanzitutto Questa La colleghiamo E poi Proseguiamo In questa direzione In questa direzione Così Ok Arriviamo ancora Un attimino Più giù Tipo così Perfetto E poi Passiamo A questa strada Così A uno scornetto Sempre veloce Facendo una Curvetta Così Ma il traliccio Non capisco Perché Viene distrutto Comunque Va bene Rimettiamo Il traliccio Che da qui Si collega A Ma non lo fa fare Allora Per quale ragione Non posso passare Sopra la strada Sembra strano Sembra molto strano In ogni caso Così 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 Me lo fa fare Quindi Questo Tutta parte Di traliccio La togliamo È collegato La città In questo modo Perfetto Oh La strada È arrivata Fino a qua Vediamo un po' Entra in una stradina Un po' piccolina Quindi io proseguirei Con la strada grande Fino Alla Rotonda Così Molto bene E E così Abbiamo Una Connessione Verso l'industria Molto Molto Più potente Proseguiamo Ancora Con un pochino Di strada Così Perfetto Sto ottenendo Tutti i soldi Assolutamente E In questo modo Possiamo andare Verso La zona Agricola Collegarla In modo Più Veloce Andiamo sempre Con questo Così Con una stradina Normale Però con gli alberelli Bene Bene Tutto ciò In come È Magnifico Tutto ciò È Magnifico Rimettiamo Play E vediamo un po' Che razza di Danni abbiamo Creato Ok Dunque Abbiamo Richiesta Ovviamente Di Zone Residenziali Che Infatti Abbiamo Abbiamo distrutto Vediamo un po' Quanto mi costa 48 La settimana E questo 32 Eh sì In senso unico Non mi interesse Attualmente E andiamo Anche il bellino Che sarebbe stato così Ma lo facciamo invece Il diritto Il diritto Così Il diritto Eccolo qua Un'altra zona La riampiamo Completamente E mettiamoci Residenze Residenze A tutto andare Ok Così Allora La richiesta Non penso Di averla Esaurita E qui ci metto Un commercio Vediamo un po' Vediamo un po' Ah ok Ok Eccola qua Oh Queste Queste No 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 Aspettate Sto facendo un danno Assolutamente Enorme Devo collegare Assolutamente Queste Queste stradine Alla strada Principale Eh Anche Anche questo Non ho capito Se è collegato O meno Non è collegato Dannazione Dannazione Come si fa A collegarlo Non mi riesce più Collegarlo Va bene Abbiamo queste stradine Collegate Questa Qui E questa Qui Altrimenti Mi diventa Veramente Troppo Uuu Adesso abbiamo fatto Abbiamo fatto Il danno Eh Sì Questa è una strada A lungo Scarrimento Ma non gliene frega Un cacchio A nessuno Di andare In In Nelle zone industriali Vogliono andare Tutti In centro Vogliono andare Tutti In centro E Noi Non sappiamo Come soddisfare Questa richiesta Tanto io Continuo Con le zone Così Mettiamoci Un po' Di Commercio Vediamo un po' No Devo chiudere Prima Diciamo Il commercio Sulla strada Principale Direi Che potrebbe essere Una tattica Molto interessante Tutto il commercio Qui E diventa Veramente Una zona Altamente Trafficata Però Ok C'è un ingolgo Incredibile All'entrata Dell'autostrada Non so Come Risolvere La cosa Come possiamo Risolverla Secondo voi Dunque Innanzitutto Le persone Arrivano qui E qui C'è C'è un blocco Qui C'è un blocco Qui Per quale motivo C'è un semaforo Che cavolo è Come mai Non passano C'hanno il rosso Ho capito che c'hanno il rosso Però Forse Forse Devo togliere Questa cosa qui Assolutamente Non devo far passare Subito qui Dovrei Proseguire la strada Lungo Potrebbe essere Un'idea Che mi potrebbe Risolvere la cosa Anche Diciamo Relativamente In modo Veloce Vediamo un po' Chiudo praticamente Queste strade Dovrei chiudere Anche questa Ok Adesso Qui non c'ho più Il semaforo E mi vanno Tutte A diritto Vediamo un po' Se Mi migliora Un po' La situazione Cioè Mi migliora Nel senso Che la coda Qui In autostrada Ce n'è molto meno Insomma Qui c'è Perché ovviamente Io arrivo qua giù E c'è un ingolgo Bestiale E non è Non è una cosa Semplice La Questo Però io potrei fare Una strada A senso unico Che da qui Mi esce Da questa parte Vediamo Ok Questo è A senso unico Quindi Arrivati qui Si va solo Da quella parte E quindi Non ci dovrebbe essere Il semaforo Perché c'è il semaforo Eppure la via Aspettate Guardiamo un attimo Si Come potete vedere Solo da questa parte Però non Non Sembrano Intenzionati A girare a destra Si qualcuno Lo sta facendo Molto bene Comunque le cose Si stanno Smaltendo Direi In maniera Molto Molto Più Sta andando Molto meglio Insomma La cosa Via Si 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 Direi Che sta andando Meglio Questa Questa strada Qui Però La Colleghiamo Lo stesso Senso unico In questo modo Aspettate Questa qui Eccola qua Senso Con Le cose Tanto Le persone Che arrivano qui Vogliono uscire All'autostrada E fanno Questa cosa Purtroppo All'entrata Dell'autostrada Dovranno Entrare In città Non mi è venuto Tanto bene Come cosa E effettivamente Mi sono proprio Sbagliato Era L'entrata Dell'autostrada Le persone Devono andare Da questa parte Devono essere Indirizzate Direttamente Là E vabbè Niente Lo rifaremo Ci ripenseremo In seguito E D'altra parte È così Le strutture Cittadine Vanno In questo senso Infatti Abbiamo creato Un grosso Ingorgo Proprio Dentro La città Quindi Dovremmo creare Io Penso Che andrò A creare Una linea Parallela A questa Sì 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 Credo Che farò Una cosa Del genere Va bene Per il momento È tutto Io spero Che il video Vi sia Preciuto Mettete un bel Mi piace Ricondividete Se potete E commentate È stato Bellissimo Noi ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie.